Però mi sto allenando a scrivere in genovese, da quest'estate che rompo le scatole, professore, perché ho preso un po' di sonetti, per esempio di Trilussa, di Aldo Fabrizio, ho provato a tradurli in genovese, ed è un, come si dice Oxford, un casino. Perché non solo è difficile la traduzione, ma anche le rime non funzionano, in italiano la rima cuore, amore funziona, in genovese que, amu, non funziona. Allora devi anche cercare di adattarli. E così se stasera vi garba, ve ne recito uno. In teatro, se uno dice se vi garba, e vi garba veramente parte l'applauso di incoraggiamento. Aspetta, aspetta, aspetta. Quindi, se vi garbasse... Aspuntaneità, dosenese, proverbiale. Vabbè, però ve ne leggo uno, che è tratto dai sonetti di Trilussa. Il titolo originale è Er nemico, che ho tradotto ogni... Un nemico. Un grosso can con un brutto muro, Uffava guardia in tenna villa del signoro. E ubaiava tutta la niente come matto, se non c'è, non c'è nessuno, manca il gatto. E una cagnetta di un vilino vicino che dice, E poi piagei, e tage in pittin, e non sta a sbargiare. Ma perché ti ha detto la gente, se tanto chi... Non succede in bello niente. O che la mia collegio rassegnava... E devo farlo, se mi è cauta in me o l'ho. Se ve lo serve al posto, mi devo insistere. Un nemico ti impariè. Non c'è bisogno che lo esiste. Marco Rinaldi! Grazie veramente, Marco!